Notizie false, calunnie, che riscaldano il popolo e chiedono la giustizia. E' un linciaggio, un vero linciaggio. E così portano al giudice, perché il giudice dia forma legale a questa malità, viene giudicato. Il giudice deve essere molto, molto coraggioso per andare contro un giudizio così popolare, fatto a posto, preparato. Il caso Pilato, no? Pilato vive chiaramente che Gesù era innocente, ma vive il popolo e se ne lavò la mano, le mani, no? E' un modo di fare jurisprudenza. Perché oggi lo vediamo, questo anche oggi è nato, no? In alcuni paesi, quando ci vuole fare un colpo di Stato o fare fuori qualche politico perché non vada alle elezioni, così, si fa questo, no? Notizie false, calunnie, poi cadono un giudice di quelli che gli piace creare giudicludenze con questo positivismo situazionalista che è alla moda e poi condanna. E' una cosa, un linciaggio sociale e così è stato fatto Stefano, così è stato fatto il giudizio di Stefano. Portano a giudicare uno già giudicato dal popolo ingannato. Grazie. Grazie. Grazie.